arriviamo al quinto posto altro genere musicale rispetto a quello che abbiamo ascoltato finora perché la scelta allora c'è una bella spiegazione sì no no bella spiegazione il quinto posto ha messo i craft work con una canzone neon lights e premente loro sono stati i pionieri veramente della musica elettronica che è un genere che mi piace tantissimo e lo metto un pezzettino facciamo sentire musica elettronica questi questo gruppo tedesco che penso che siano ancora in attività che ancora qualche concerto fanno in giro se non mi sbaglio furono loro proprio che inventarono che cambiarono la tastiera la sintetizzarono insomma ora non mi voglio sbagliare però anche perché poi ti tirano le orecchie no no però insomma sono stati veramente i pionieri della musica elettronica musica così che genere in che occasione possiamo consigliarla una musica ma io ho detto alcune da sottofondo sì sì no anche pensa può essere anche da viaggio certo se l'ascolti in altre situazioni magari un pochino dove alzi un po il gomito ti fanno fare un bel viaggio e questo sì va bene va bene continuiamo ad ascoltarlo tra pochissimo torniamo prova intercannel a soli 4 euro per sette giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando vai su sky.ito chiama all'199 100 200 prova intercannel e poi scegli